Questo è quel messaggio per voi, non vaccinati. Anche se fosse completamente vaccinati. Doveste ammirare i non vaccinati, per aver sopportato la pressione più alta mai vista dal suo partner. Genitori, figli, amici, colleghi e persino medici. Le persone capaci di tale impresa, personalità, coraggio e capacità critica, sono senza dubbio i migliori dell'umanità. Sono ovunque, di tutte le età, di diversi livelli di educazione, diversi stati e ideologie. Sono di una classe speciale. Sono i soldati che ogni esercito di luce vorrebbe avere tra le proprie file. I genitori che tutti i bambini vorrebbero avere e i figli che ogni genitore sognerebbe. Sono esseri al di sopra della media della società. Sono l'essenza delle persone che hanno costruito tutte le culture e aperte orizzonti. Sono lì, accanto a te. Sembrano normali, ma sono dei supereroi. Hanno fatto ciò che gli altri non potevano. Sono andati all'albero che ha sopportato l'uragano di insulti, discriminazioni ed esclusione sociale. E lo hanno fatto, sapendo di essere soli e credevano che, beh, erano gli unici. Probiti dalle tavole delle proprie famiglie. A Natale non avevano mai visto niente di così crudele. Hanno perso il loro lavoro. Hanno lasciato affondare la loro carriera. Non avevano più soldi, ma non gli importava. Hanno subito discriminazioni, tradimenti e umiliazioni. Ma sono andati avanti come non mai. Per caso c'è mai stata una prova del genere? Ora sappiamo chi sono i migliori della Terra. Uomini, donne, giovani, anziani, ricchi, poveri, di tutte le razze e religioni. I non vaccinati. I prescelti dell'arco invisibile. Gli unici che sono riusciti a resistere quando tutti sono crollati. Questo sei tu. Hai superato un test inimmaginabile che molti dei Marines, attornauti e geni anche più duri non hanno potuto sopportare. Dei più grandi che siano mai vissuti. Quegli eroi nati tra uomini comuni che brillano nell'oscurità. Ricorda che sei la voce ed è ora per essere preso in considerazione.